Piero Mancini è al centro con alcuni familiari di una nuova bufera giudiziaria. L'ex presidente Amaranto, la figlia Jessica e il nipote Giovanni Cappietti e la compagna Loredana Banelli sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per presunta bancarotta fraudolenta. E gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito le perquisizioni domiciliari lunedì 13 gennaio. L'inchiesta, condotta dal PM Roberto Rossi, rientra nell'ambito del fallimento della società Mancini Gruppe SRL. Le aziende principali erano Ciet e Cometi di Sansepolcro. Prima il diniego da parte dei giudici di una richiesta di concordato, poi nelle successive verifiche sarebbero emersi nei bilanci maxi distrazioni dai conti delle società. Posizione che normalmente sarebbe classificata come falso in bilancio, ma che con l'insolvenza diventa bancarotta fraudolenta. Ecco il perché delle perquisizioni autorizzate dal PM che ha così cercato riscontri documentali. L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno 5 febbraio 2014.